Benvenuti in questo nuovo video! In questo nuovo video si parlerà di Natale L'obiettivo di oggi è fare l'albero, mostrarvi tutte le decorazioni che voi vedrete in determinati colori ma in realtà potrete scegliere per qualsiasi colore vogliate, ma soprattutto fare una sorpresa dei rimbi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!